Ciao a tutti, bentornati nella mia cucina. Oggi faremo i muffin maurizzati al cioccolato, ideali per una colazione, uno spuntino o anche la sera con un bicchiere di latte caldo prima della buonanotte. Gli ingredienti per incominciare sono 3 t di farina, 2 g di bicarbonato, del lievito pane angeli, 150 g di burro, 180 g di latte, 4 uova intere, 150 g di cioccolato che ho già fatto fondere al microonde, 250 g di zucchero. Incominciamo! In una ciotola di vetro uniamo il burro a pomata e tutto lo zucchero e usiamo lo spattitore fino a che diventa una crema morbida. Una volta ottenuta questa consistenza aggiungiamo le uova una alla volta affinché vengano assorbite con il burro a pomati con il burro a pomata e super ne chiamata che ci sono benefici!" Bocchè, ammuro e non officiare l'olio di sull'olio. aggiunte le quattro uova e ottenuta questa consistenza spumosa mischiamo gli ingredienti secchi, il lievito e il bicarbonato alla farina e utilizzando un piccolo setaccio aggiungo la farina al composto così poco alla volta usando il frullatore amalgamiamo tutti gli ingredienti così fino alla fine aggiungo altresì poco alla volta anche il latte ora dividiamo il composto in due parti dove andremo ad aggiungere il cioccolato e mischiamo per bene ho preriscaldato il forno a 180 gradi ora uniamo i due composti nello stampo dei muffin che ho precedentemente imburrato in questo modo versiamo un composto dell'impasto chiaro su ogni stampo fatto questo aggiungiamo il composto al cioccolato aggiunto il composto scuro con un sisticadente lungo faccio questo movimento a spirale e mischio i due composti aggiungo della granella di nocciole e continuo così con tutti gli altri una volta completata questa operazione questo è il risultato li inforniamo a forno statico a 180 gradi per una mezz'oretta a dopo per il risultato dopo mezz'ora i nostri muffin sono pronti pronti a scoprire l'interno? sono non sono buonissimi spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta cliccate mi piace sul canale iscrivetevi alla prossima inviaci richieste e suggerimenti a cucinaconagnese.gmail.com ciao 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 ciao